Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io come sempre sono Andrea e oggi andremo a vedere cose da fare varie ed eventuali all'interno di Elden Ring. Anche questo video come sempre è offerto dal nostro sponsor Aoea, un sito dove potrete acquistare armi, armature, materiali di gioco, rune e chi più ne ha più ne metta per Elden Ring e se utilizzerete il coupon Top Games riceverete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. A questo punto non vi resta che iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento qua sotto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Allora ragazzi dobbiamo recarci al palazzo di Mogwin sulla strada per il palazzo. Ovviamente è la zona di farm che tutti utilizziamo quindi la conosciamo ma oggi non andiamo ad utilizzare quella. È stato trovato un nuovo metodo per fare pensate 100.000 rotte anime in poco più ragazzi di un minuto e mezzo. È una cosa impressionante, non ne ho capito la logica ma dovete seguire esattamente i passaggi che faccio. Non correte mai con torrente, non c'è bisogno. Quindi cercate di utilizzarlo al meglio, prendete la mira, fate il doppio salto esattamente come lo faccio io. Una volta che ci avete preso la mano vi assicuro che sarete in grado di scendere anche sotto al minuto alle volte. Una volta che arriverete in questa zona saltate su questa pietra e l'unica cosa che dovrete fare veramente attentamente è questa. Puntatevi sulla metà tra luce e ombra, correte, salto, salto e cadete. Nella mano destra dovete avere un'arma, quindi una spada, uno spadone, quello che volete. Incominciate a colpire l'aria, tanto cadrete, cadrete, circa per 20-25 secondi buoni. Ad un certo punto succederà qualcosa di inaspettato. Arriveranno delle rune. Delle rune a caso, completamente a caso. Voi state picchiando l'aria eppure ad un certo punto arrivano delle rune. In questo momento sembra che stiate ancora cadendo, cadendo, cadendo e in verità siete in sospensione. Non ho capito bene come funziona ma torrente sta camminando lento ma sta camminando anche se voi non state dando una direzione. Mantenete sempre la posizione finché effettivamente non vedrete i fasci di luce delle rune arrivare a voi. Quello è il momento in cui tutto ciò ha appena funzionato. Non so neanche io come definirlo se exploit o glitch o in che altro modo. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Una volta che ricevete le rune potete tranquillamente aprire la mappa, tornare alla grazia precedentemente utilizzata e vedrete salire le vostre rune di ben 100.000. Così. Perché ci piace ricevere un sacco di rune gratis. Potete ripetere quanto volete ragazzi finché non lo correggeranno ovviamente con una pace perché questo è grosso. È grosso perché è veloce, è facile e come exploit o glitch o ditemi voi come chiamarlo è estremamente semplice da fare. Non è difficile, basta raggiungere questa zona e poi il gioco è fatto. Quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto, attivate la campanella, fatemi sapere che cosa ne pensate dei nostri video e noi ci rivediamo sempre qua su Top Games. Alla prossima. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.